12 e 27 minuti di nuovo in diretta con Ore 12 e con altri ospiti che accogliamo molto volentieri anche perché ci danno la possibilità di annunciare uno spettacolo previsto per questa sera alle 20 e 30 a Palazzo Cittanova a Cremona che rientra, spettacolo che rientra nell'ambito delle varie iniziative per la giornata della memoria, uno spettacolo che è intitolato da Theresienstadt a Lampedusa è uno spettacolo che diciamo ci consente appunto di ritornare su temi che oggi sono al centro dell'attenzione e lo facciamo con gli autori che saluto e che ringrazio a cominciare da... scusate ho perso il mio foglio eccolo qua allora Gottfried Wagner Eleonora Carapella e anche Simona Carapella che sarà la voce recitante allora i due autori di questa pièce che avremo modo di vedere a Palazzo Cittanova questa sera allora Wagner iniziamo subito come avete pensato di ritornare su questi temi già peraltro trattati numerose volte e soprattutto questa citazione di Lampedusa nel titolo incuriosisce molto prima di tutto non ritorniamo questo tema che cosa sono le conseguenze della Shoah c'entra direttamente con il nostro lavoro noi siamo dedicati anche al compositore con Eleonora Aldo Finzi e parte del repartorio vuol dire anche durante non abbiamo solo una giornata che è molto importante allora la pubblicazione della Eleonora è stato anche il gancio fra noi due io ho pubblicato come musicologo un libro su Kurt Weill che è anche parte del nostro proprio impegno per stasera vuol dire per noi anche la discussione tanto più attuale nel momento 24 ore di orrore che siamo tutti quasi paralizzati che trovo devo anche un po' criticare in media perché abbiamo la responsabilità per la prossima generazione in che modo per me la domanda è generalmente no abbiamo imparato qualcosa anche dagli errori del passato per oggi per anche fare un collegamento mamme, bambini sulla fuga Teresa, si conosce questo ma anche oggi la barca abbandonata di là con quello che succede nella politica internazionalmente sono per me sono molto preoccupato e penso anche Papa Francesco dice le cose anche a Lampedusa in un modo molto diretto per me l'attualità, per me la coscienza individuale e sono capace di attivarmi anche con programmi culturali quindi lei dice alla luce anche degli orrori attuali che comunque continuano a contaminare la nostra società da questo si evince che non abbiamo imparato tanto dagli errori del passato io penso non deve anche mai generalizzare, sono dei gruppi che vogliamo adesso non sempre generalizzare sono anche le persone individui che sono molto impegnate forse qualche volta silenziosamente si impegnano tante, sono anche tante bellissime azioni e questo anche sarebbe da fare vedere che la prossima generazione si muove e impara e sono anche indignati per fortuna che è quello che succede anche adesso momenti anche dei totalitarismi abbiamo ancora dove si vede l'immagine del nemico e questo trovo molto preoccupante così anche fare capire i bambini con brondibana, questa lirica Teresienstadt era un faro di luce con questi bambini perché parlando con questi bambini di Teresienstadt, adesso sono nonne, hanno sempre detto cantando brondibana mi ha fatto sopravvivere il disastro e loro insegnano anche questa speranza per le prossime generazioni per cominciare con i cramatori, siamo tutti così scioccati, quello che vediamo anche ogni giorno nella televisione e per me paralizza ma non attiva per essere responsabile individualmente tra l'altro, intanto bisogna anche ricordare che Teresien, Teresienstadt è una sorta di città a fortezza presente nella Repubblica cieca è importante di dire che cosa era disegnato, prima Teresien, anche la Repubblica cieca oggi e dopo con l'occupazione nazista, promettendo i pree europei di alta cultura, persone anche di massimo livello internazionale di là c'è un paradiso per voi, di là avete una vita normale, dateci tutto, potete trasferirvi e dopo si è fatto anche il filmato della Croce Rossa finto da tutte le persone, perché conosco le persone che erano nel filmato e dopo, due giorni dopo, trasportato ad Auschwitz per essere assessionato e certamente questa è una cosa tremenda, scioccante ancora oggi allora di là è da raccontare come sono scioccante anche per me l'immagine delle barche con donne e bambini abbandonate questo è uno scandalo che si deve anche essere sensibilizzato utilizzare questo giorno per la vita i prei dico l'achaim, per la vita, alla vita e questa è la parola, non essere paralizzato, perché è sciocco Ecco, Eleonora Carapella, allora dicevamo, una sorta di viaggio metaforico attraverso i luoghi e il tempo dove letture, riflessioni, immagini e musica sono al servizio di una memoria che vuole ricostruire un po', no? Sì, una memoria costruttiva direi, una memoria che non vuole soltanto ricordare ma vuole anche insegnare a non ripetere gli errori del passato in questo senso Lampedusa è proprio il simbolo delle fughe dalle persecuzioni, dalla povertà, dalla fame e da tutta quell'insensibilità del mondo nei confronti di queste situazioni difficili come nel periodo della Shoah è avvenuto in fondo la stessa cosa, no? Il mondo è rimasto un po' a guardare quello che stava succedendo Ecco, Silvana Carapella, come si svolgerà lo spettacolo? Allora, in scena presente la mia voce recitante quattro musicisti Anche narratrice Sì, il mio ruolo è in qualche modo di accompagnamento del pubblico ad entrare in questa storia, in questo percorso con alcuni brani che abbiamo appunto adattato per questa narrazione ci sono brani musicali eseguiti dal vivo e un coro di voci bianche di bambini della scuola media e questo è l'ensemble quello che a noi importa con questo spettacolo recital, azione umanitaria come ama definirlo anche video, anche video con i bambini Ci sono anche proiezioni Infatti vediamo, credo, alcune foto delle prove Sì, queste sono alcune foto delle prove Quello che ci preme è puntualizzare il fatto che nella storia dell'uomo sono i comportamenti umani a ripetersi anche se le vicende sono diverse è quello a cui dobbiamo fare attenzione in un periodo di crisi rischiamo di attuare gli stessi comportamenti quindi sensibilizzarci a quanta sofferenza la Shoah ha provocato ci può aiutare ad affrontare la sofferenza dei perseguitati di oggi Per l'altro proprio qui a Cremona siamo reduci da scontri ideologici di fatto destra, sinistra, centri sociali antagonisti, ricontro coi presunti fascisti perché poi si scambiano ancora questi epiteti che sembrano veramente cioè a 70 anni dalla liberazione a 100 anni dalla prima guerra mondiale e così veramente si impara poco violenza, violenza, ancora violenza a violenza risponde a violenza Per quello vogliamo anche integrare alla fine della nostra presentazione Don Antonio di Cremona che è proprio adesso il direttore della casa dell'accoglienza è importantissimo con la sua esperienza di 25 anni allora un uomo che è così vicino anche al Papa Francesco se lui adesso si fa vedere a Lampedusa da un, per me, un segnale a tutto il mondo e il mondo ha capito anche questo non ha detto nessuno così chiaramente Ecco, Carapella lei, insomma, studiosa, musicologa come possiamo ecco, forse tra l'altro tra poco avremo anche una sorpresa come possiamo giudicare quanto viene fatto nella giornata di oggi tra l'altro Cremona come dire, fortunata ad ospitare proprio oggi questo spettacolo che viene quindi anche questo particolarmente significativo si dice, si racconta si producono tanti spettacoli tanti momenti di riflessione sono incisivi? Ma, senz'altro il nostro la nostra serata vuole essere una riflessione attraverso la cultura quindi una riflessione attraverso la musica attraverso le storie di questi compositori perseguitati nel periodo nazifascista le storie dei compositori della seconda generazione ossia dei compositori nati dopo dopo il disastro e una riflessione su quello che accade invece nei nostri giorni e con Lampedusa come simbolo di questa indifferenza globale esatto quindi un'indifferenza globale che voi avete voluto ribadire proprio con l'esempio di quanto accaduto di quanto accade a Lampedusa nel senso comunque della difficoltà come simbolo il mondo quale non si muove niente concreto questo trovo molto grave diciamo che è riferito certo agli aiuti nei confronti di coloro che arrivano da situazioni difficili a quel senso e a quelle sensibilità dell'accoglienza che continua a mancare c'è quindi un senso di chiusura e l'incapacità di poter sostenere un'accoglienza dei flussi migratori così numerosi così grandi e quindi non vogliamo naturalmente accostare i lager ai centri di accoglienza guai ma è proprio un voler accostare le sofferenze le sofferenze di ieri e le sofferenze di oggi che comunque hanno bisogno di un'attenzione da parte del mondo intero ma sono anche le azioni molto positive il ruolo della marina italiana si deve dire chiaramente questa è la strada giusta per molti è stato fatto troppo in realtà sono stati spesi troppi soldi la marina ha fatto troppo ha aiutato troppe persone attenzione la storia del colionalismo europea comincia non ieri allora dobbiamo raccontare la storia della Siria dobbiamo ancora esaminare sensibilmente la storia che cosa prima che cosa voleva dire la Siria la Libia tutti questi paesi allora momento se vogliamo fare adesso questo confronto non voglio anche discutere sui partiti ma sappiamo bene che cosa c'è sui partiti adesso c'è molta confusione vede che in Grecia la sinistra ha fatto un governo con la destra e crescono anche di là i nazisti i gruppi di nazisti molto preoccupante molto preoccupante senta io tra l'altro lei Wagner qualcuno dirà come Wagner insomma pronipote del grande Richard Wagner famiglia da cui lei ha preso un po' le distanze ovviamente anche con un libro intitolato Il crepuscolo dei Wagner anche per denunciare i legami che Richard Wagner aveva con il nazionalsocialismo la sua musica è stata presa tante volte rappresentava un po' questo triste periodo senza conoscere bene e dire chiaramente chi è stato Richard Wagner senza parlare qui in Italia su tutti gli scritti antisemitici anche le liriche includono un militante antisemitismo e rassismo su questo è da parlare anche nella scala se si fa l'anello di Nibelungo allora di là c'è ancora tanto da discutere in Italia tra l'altro è stato leggevo di recente la musica di Richard Wagner non poteva essere eseguita in Israele fino al 2001 fino al 2001 quando Bar & Boy io lavoro in Israele dal 1990 allora questo tema è una cosa quasi della vita quotidiana discussione io ho fatto le conferenze su Richard Wagner in Israele non sono stato mai distoppato con le mie presentazioni anche della musica di Wagner perché di là si vuole sapere le cose precisamente è un pubblico molto molto preparato anche fa piacere fare le conferenze e di là debiamo ancora ricominciare tanto in Italia per sapere un po' su Richard Wagner e anche le mie distanze scelto la strada di Kurtweil per arrivare in New York e a Israele dopo anche fare le mie visite fra l'altro Theresienstadt in Auschwitz queste sono le conseguenze anche di una responsabilità individuale e queste noi qui tre come team che lavoriamo molto bene insieme è il punto di patenza per il nostro concetto benissimo perfetto allora questo spettacolo ve lo ricordo questo appuntamento questa sera 20 e 30 a Palazzo Cittanova grazie a Gottfried Wagner grazie a Eleonora Carapelle e a Simona Carapella grazie benissimo a questo punto direi Cristina possiamo andare avanti sì possiamo andare avanti perché restiamo in tema con la giornata della memoria perché Giovanni Gardani ci ha preparato un servizio molto toccante la storia di due atleti nell'ambito di storie di atleti deportati nei campi di concentramento due ragazzi due giovani che hanno avuto modo di giocare nella cremonese quindi a portare anche i colori grigio-rossi e forse meno conosciuti perché ce n'è un terzo sicuramente più conosciuto di cui si è già parlato ampiamente che è Vittorio Staccione ma questi due due fratelli Claudio e Ottorino Paolinic nati a Fiume e poi morti molti anni dopo per fortuna perché loro dai campi di concentramento per fortuna sono usciti morti appunto nella nostra città vediamo questo racconto di Giovanni Gardani si chiamavano Claudio e Ottorino Paolinice di Cremonese a giudicare dal cognome non avevano poi molto nati a Fiume il primo l'11 aprile 1920 il secondo il 2 marzo 1922 portavano in dotte l'accento e la desinenza dell'irredentismo della terra che quando i Paolinici nacquero era uno stato libero segnato da cicatrici belliche che sarebbero rimaste a lungo eppure Claudio e Ottorino Paolinici alla città di Cremona e alla Cremonese hanno legato la parte più bella della loro vita sopravvissuti all'orrore del Lager trovarono con la maglia grigiorossa indosso la libertà la storia dei fratelli Paolinici andrebbe ricordata sempre come esempio di sofferenza e riscatto come emblema di cosa significasse in quegli anni la follia nazista della Shoah ci è sembrato giusto farlo almeno nel giorno della memoria che il mondo intero celebra proprio martedì residenti a Cremona in via Fratelli di Dio in via Cairoli i due Paolinici passarono prima dal campo di concentramento di Dachau nome di per sé già sufficiente a mettere i brividi quasi 32.000 i deportati che morirono in quel Lager non i Paolinici però che catturati a Sussac di fiume il 6 novembre 1944 mentre lavoravano nella ditta elettrica Tot vennero condotti a Dachau attirati fuori con la scusa di un blackout pensavamo fosse un campo di lavoro raccontò una trentina di anni fa in un'intervista Claudio Paolinic per 20 anni impiegato all'ispettorato del lavoro di Cremona morto nel 91 11 anni dopo il fratello Torino scoprirono presto la verità con il solco tracciato dal rasoio sui capelli la cosiddetta strasse a indicare la vergogna dei traditori italiani e il motivo politico della loro deportazione a salvare la vita ai due fratelli che non si videro per diversi mesi dal Natale 44 all'aprile 45 giorno della liberazione grazie alle truppe del generale Patton fu Cesare Borghi compagno di squadra all'unione sportiva Fiumana che riconobbero per caso a Dachau evitati i trasferimenti gli consigliò Borghi i cosiddetti trasporti della morte gli evitarano tre volte i fratelli Paolinic e sopravvissero Claudio di corporatura robusta 80 kg circa ne pesava la metà al momento della liberazione se mettevo un dito sulla pancia e uno sulla schiena potevano toccarsi ha raccontato in una parabola quasi evangelica del dolore i due fratelli furono anche costretti a giocare a calcio nel lager italiani contro russi ma senza né la voglia né la forza fisica per farlo da lì iniziò un'altra storia che portò i Paolini a Cremona tinta di grigio rosso Claudio capace di ritrovare fisico massiccio gambe d'acciaio e l'intelligenza da mediano che già l'aveva reso grande all'unione sportiva Fiumana arrivò per primo già nel 1946 e subito segnalò ai dirigenti il fratello o Torino con il passo svelto tipico della mezzala ricordati assieme a 41 altri atleti di varia estrazione e nazionalità nel gennaio 2013 in una mostra a Firenze dedicata agli sportivi deportati tra questi anche Cest Mirvich Palek e Harpad Weiss i Paolini ci rimasero alla Cremonese fino al 1950 in serie B con caratteristiche diverse ma un solo grande segreto che non confessarono mai volentieri un segreto che la Cremona grigiorossa nel giorno della memoria non può dimenticare di onorare che la Cremona non può dimenticare non può dimenticare non può dimenticare che la Cremona non può dimenticare non può dimenticare non può dimenticare che la Cremona non può dimenticare che la Cremona non può dimenticare Grazie a tutti.